Salve, sono Simona e lavoro presso la concessionaria per i due gruppi. Oggi ti presento la BMW 120 di ETA. La vettura è stata immatricolata nel 2005 a soli 130.000 km e da come puoi notare è stata tenuta davvero molto bene, ha giusto qualche graffio che verrà riparato dai nostri meccanici. La vettura è dotata anche di cambio automatico, è la classica vettura adatta a mio avviso ad un ragazzo molto sportiva, ha un bagagliaio molto grande e i sedili sono ribaltabili, gli interni sono in tessuto. e io penso valga la pena fare una prova su strada della vettura ed è per questo che ti invito a venire con me. andiamo a fare la prova su strada della vettura è dotata di cambio automatico, è molto comoda anche da guidare inoltre, la cosa più importante visto il caldo di oggi è il climatizzatore B-Zona ha inoltre i sensori di pioggia e gli autono abbaglianti il volante è un volante multifunzione, ha inoltre la radio cd molto comoda da guidare, lo ribadisco e penso che si adatta ad un ragazzo, perché è un'auto comunque abbastanza sportiva ma anche ad una famiglia, perché comunque è abbastanza spaziosa all'interno. Io ti consiglio di venire in concessionaria a vederla e a fare una prova su strada della vettura ti ricordo che mi chiamo Simona lavoro presso l'Aperito Group i nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 dalle 15 alle 19.30 il sabato dalle 8.30 alle 13 il nostro numero è 0975 520 350 ti aspettiamo, ciao!